Ecco la parte di Cristo. Ecco la parte di Cristo. Ecco la parte di Cristo. Se per caso il suo discepolo al mattino dopo l'ufficio si addormentava, l'anziano gridava per svegliarlo e gli diceva, «Svegliati, fratello! Quelli sono là ai sepolcri e alla loro opera già da un'ora!» Un giorno il fratello disse all'anziano, «La mia anima è indurita e non posso piangere». L'anziano rispose, «Figliolo, lotta per un po' di tempo, fatica, e Dio vedendo la tua sofferenza ti farà misericordia. Se il cuore riceve una freccia, non ha più possibilità di guarigione, e così se Dio lo ferisce per muoverlo a compunzione, la sofferenza non lo lascerà mai più, rimarrà ferito fino alla morte, e un tale uomo, dovunque vada, avrà sempre dentro di sé la compunzione». Un giorno, dunque, l'anziano vide il fratello appesantito dai cibi. La sera, infatti, erano venuti alcuni a fargli visita. Lo prese in disparte e gli disse, «Non sai che la compunzione è una piccola lampada accesa, e che se non la proteggi attentamente subito si spegne e se ne va? L'abbondanza di cibo la spegne, e così pure l'eccesso di sonno le è di impedimento. La maldicenza la spegne, le chiacchiere, e in una parola ogni altro riposo della carne la scaccia e la fa sparire. Chi ama Dio e vuole custodire la compunzione, dunque, in ogni sua azione deve fare la parte di Cristo». Il fratello disse, «Che cosa vogliono dire queste parole, padre?» L'anziano rispose, Vuoi sapere in che modo si fa la parte di Cristo in ogni azione? Ascolta. Quando, ad esempio, ti arriva un pane bianco, lascialo a un altro fratello, e tu mangia quello nero per amore di Cristo. E ancora, se ti arriva del vino buono, mettici un po' di aceto per amore di Cristo che ha bevuto l'aceto. Non mangiare fino a saziarti, ma lascia da parte un po' di cibo dicendo, «Ecco la parte di Cristo». Se trovi un cuscino morbido, lascialo, e prendi una pietra per amore di Cristo. Se quando dormi hai freddo, sopporta e di, altri non dormono affatto. «Se ti prepari un cibo cotto, rovinalo un poco e di, altri, pur essendone degni, non mangiano neppure il pane, e invece io, che sono indegno, mangio perfino dei cibi cotti, quando dovrei mangiare polvere e cenere a causa della malvagità delle mie azioni. Insomma, ad ogni azione, mescola un po' di sofferenza, e vivi nell'umiltà, pensando a come hanno vissuto i santi, perché nell'ora della morte siamo trovati anche noi nella sofferenza e nella tribolazione e otteniamo il riposo nell'aldilà». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501